ben ritrovati tutti gli amici di cultura pop soprattutto amanti dei transformer oggi siamo tornati con una nuovissima video recensione io sono sempre il vostro alex e sono felicissimo di aver ricevuto questo prodotto dai nostri amici di asbro come potete vedere andremo a parlare di rodimus prime dalla mitica generazione 1 appunto dei transformer uno dei leader degli autobot questo in particolare è stato ripreso dalla serie tv in esclusiva su netflix transformer war of cybertron trilogy kingdom l'ultima parte che potete già vedere sulla piattaforma in streaming che ve la consiglio assolutamente a se siete amanti di questi transformer della mitica generazione 1 andate a vederla chiudiamo questa parentesi e andiamo a descrivervi il prodotto anzi ancora prima vi ricordo che se non l'avete ancora fatto attivate la campanella per seguirci in tutti i nostri video in uscita riguardanti le action figure lasciateci un like commentate e seguiteci detto ciò andiamo immediatamente a vedere la confezione la confezione come possiamo già vedere è di forma rettangolare dove possiamo vedere nella parte frontale il nostro buon rodimus prime in versione robot e nella sua forma in veicolo il logo transformer kingdom war generation trilogy il logo takara tommy il logo dei transformer generation appunto la scritta transformer e il logo asbro e qua possiamo vedere il bollino che significa questo è un prodotto dagli otto anni in su in uno dei fianchi possiamo vedere appunto un disegno da dove appunto è stato tratto questo rodimus prime in particolare la terza parte della serie tv in esclusiva su netflix infatti già possiamo vedere i protagonisti delle serie in computer grafica se non l'avete ancora già vista nell'altro lato c'è il continuo del disegno della parte frontale e nella parte posteriore possiamo vedere il nostro rodimus prime e le combinazioni che troveremo all'interno detto ciò non ci resta che andare ad aprire immediatamente la confezione e vedere appunto cosa troveremo all'interno vedo che c'è del cartone quindi andiamo piano piano a estrarre il cartone dalla scatola e guala dentro non troviamo altro niente ci dovrebbero essere anche le istruzioni mettiamolo qua da una parte magari sono finite sotto infatti eccole qua vediamo qua c'è anche una card autobot arc molto probabilmente saranno casuali queste queste card perché pensavo di trovare sinceramente quella di erodimus prime invece abbiamo quella dell'arc è un classico libretto delle istruzioni che qua assolutamente bisogna consultare per andare a trasformare il nostro buon rodimus prime sia nella forma veicolare che in quella in robot altrimenti qua facciamo solo che danni tanto come potete vedere le istruzioni sono molto intuitive perché sono completamente disegnate quindi non avremmo bisogno di traduttori di inglese o giapponese o quant'altro perché non c'è scritto assolutamente nulla sono tutte disegnate quindi sono anche molto intuitive cosa troveremo all'interno del nostro cartone non so se si vede ma ci sono degli elastici che tengono ancorato tutto quanto quindi bisogna andare a tagliarli bene ho tagliato tutti gli elastici che tenevano ancorati sia rimorchio che la macchina che sacchettino qua con gli effetti che questo si può chiamare cingolato che serve per sparare dei super mega colpi andrà ancorati in questa parte qua e poi servirà come torretta infatti si alza come potete vedere si aprono le parti qua laterali per andare a sparare contro i desepti con questo qua è rimorchio realizzato completamente in plastica mi dicevo mi sono dimenticato anche questa parte qua è realizzato completamente in plastica anche qua poi con il libretto delle istruzioni andremo a vedere come si chiude anche se sembra abbastanza intuitivo a non rischiare di fare i danni a romperlo che sarebbe davvero un peccato meglio guardare il libretto delle istruzioni poi c'è il nostro buon rodimus prime quindi questa è la macchina guardate un po con questo super alettone nella parte posteriore realizzata anche questa completamente in plastica guardando anche sotto si vedono i vari pezzi che poi muovendosi andranno a formare a trasformarsi appunto in robot e infine il sacchettino dove possiamo vedere c'è il fucile una spada e degli effetti ci dovrebbe essere anche la matrice del comando se non ricordo male vediamo se faccio prima ad andare ad aprirlo spada fucile vedo che ci sono degli effetti e non c'è la matrice del comando come mai non c'è vi chiederete voi molto probabilmente la matrice del comando è relegata a optimus prime quindi per averla bisogna prendere il buon optimus prime anche questi qua realizzati in plastica questa qua è plastica traslucida bene io adesso comincerò a montare il tutto guardate anche qua dove andranno messi appunto gli effetti per non lasciare nulla nella scatola e poi ci vedremo appena avrò assemblato il nostro optimus prime prima nella forma veicolare quindi la macchina incastrata con il rimorchio e poi andrò a trasformarlo e a farlo diventare il nostro rodimus prime in forma robotica bene dai ci vediamo tra un po abbiamo praticamente assemblato la parte veicolare quindi quella con la macchina e il rimorchio ed è uscito questo siluro di trasformer praticamente lungo ben quasi 31 centimetri quindi fate un po voi e una bella dimensione per essere un trasformer molto semplice l'incastro tra tra la macchina e rimorchio basta semplicemente alzare questa parte dei tubi di scarico e inserire la macchina lo stesso vale per estrazione quindi basta dare un po di spinta la macchina come vedete si stacca il rimorchio resta semplicemente da solo molto molto facile una volta che sentite il click il gioco è bello che fatto qua abbiamo anche un vano ci permette di mettere alcune cose all'interno come le due fiamme che possono essere incastonate in questa maniera nei tubi di scarico per far uscire la fuoriuscita della fiamma altrimenti possono essere riposte in questo vano in questa parte qua poi qua ci sono i vari fori dove ad esempio potremmo mettere a nostra discrezione fucile o comunque anche la spada visto che a questo perno che si può ruotare vedremo con l'aiuto eccolo qua del nostro buono fucile potremmo inserirlo in uno di questi fori qua in estetica non gioco granché però insomma c'è anche questa possibilità e poi non mi sembra aver altro da dire nella forma veicolare adesso riprenderò in mano il libretto di istruzioni e andrò a trasformare il nostro buon rodimus prime nella sua forma da robot eccomi ritornato dopo aver trasformato rodimus prime nella sua forma robotica guardate un po anche che figata andiamo a sganciarlo da alcuni pugni questo lo mettiamo qua da una parte e andiamo un po a vederlo nel dettaglio allora innanzitutto come prima cosa vi dico che è necessario assolutamente consultare il libretto delle istruzioni per andarlo a trasformare perché è abbastanza complicato pensavo fosse più semplice invece mi sono reso conto che senza libretto delle istruzioni non andremo mai a trasformarlo nel sacchettino che avevamo aperto in precedenza non avevamo trovato la matrice del comando perché perché i nostri amici di rasbro l'hanno inserita direttamente nel petto di rodimus prime questa è una bella chicca che non che non mi aspettavo tutto si aggancia quindi sono tutto incastro una volta trasformato ma non ci sarà pericolo di pezzi che si muovono e altro insomma se avete trasformato tutto bene tutto incastrarsi e robot uscirà benissimo per quanto riguarda il mezzo busto si può ruotare fino a questo raggio qua non va oltre perché c'è l'impedimento di questa praticamente sacca qua dietro la gamba si può alzare a 45 gradi anche un po di più doppio snodo al ginocchio e anche il piede si muove molto bene perché si può piegare si può anche un po abbassare alzare comunque è estremamente osabile per le armi non abbiamo trovato nessuna fatica a impugnarle c'è la spada basta inserire in questa maniera incastro e si chiude fucile uguale e quale abbiamo preso anche il fucile si sono impegnati a dovere per andare a incastrare il tutto è veramente fatto molto molto bene rinnovo i miei complimenti ad asbro bene eccoci arrivati ai saluti finali vi ricordiamo che optimus prime da asbro è già in vendita presso tutti i negozi gli store ufficiali sia online che quelli fisici consultate e chiedete a vostro negoziante di fiducia se siete appassionati di trasforma di procurarvelo perché vi assicuro che ne vale davvero la pena rimarrete molto soddisfatti ad un prezzo davvero soddisfacente da alex e da rodimus prime è tutto ci vediamo al nostro prossimo video grazie ancora agli amici di asbro per questo bellissimo sempre ciao